Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. I dati Auditel certificano ancora ETV Rete 7 come la prima televisione in Emilia Romagna. ETV Rete 7, da 37 anni, un'amica di famiglia. Buongiorno, buona domenica e benvenuti a ETG Bologna. Il caro delle bollette sta pesantemente penalizzando tutti i settori e in maniera particolarmente severa quello delle attività commerciali, della ristorazione. Molti esercizi rischiano la chiusura se non arriveranno in breve tempo, soluzioni per mitigare i costi che molti imprenditori si trovano a dover pagare. Ne abbiamo parlato con il presidente di Confesercenti Bologna, Massimo Zucchini. Sentiamolo. Dopo la crisi pandemica, un altro problema, quello del caro bollette. Qual è la situazione nel settore della ristorazione? Intanto non siamo ancora fuori dalla normativa pandemica Covid, quindi ricordiamo che il 1 aprile è stato un momento di svolto importante, però una serie di controlli per quanto riguarda la ristorazione esistono ancora. C'è l'obbligo del Green Pass base per entrare e l'obbligo di utilizzare le mascherine all'interno. Quindi c'è una grande volontà e una grande voglia di tornare alla normalità, di tornare a uscire. Diremo che si vedono dai risultati, si vede la mobilità delle persone, si vede dal turismo, però ci sono ancora alcuni vincoli, alcuni limiti che ci sono stati imposti. Per quanto riguarda invece il caro bollette, qual è la situazione? La situazione è pessima, nel senso che mediamente un'attività, visto raddoppiare i costi generali rigati alle bollette, quindi gas, luce e acqua, sono aumentate in maniera incredibile, tanto da pesare a livello economico moltissimo sull'economia dell'attività. D'altra parte, adesso stanno cominciando ad arrivare, è definita l'epoca in cui siamo riusciti a spostare i mutui che gravavano sulle attività e quindi sono ricominciate anche tutta la parte economica dei debiti che si sono stati fatti durante il Covid. Quindi stanno venendo, insieme a questi dati, insieme all'aumento, non indifferente di alcune materie prime, momenti molto difficili per far quadrare i conti dell'attività. C'è il rischio che alcune imprese chiudano? Il rischio c'è e purtroppo alcune imprese hanno già chiuso. Quelle che sono in questo momento più colpite sono le piccole imprese, le piccole imprese commerciali, le piccole imprese alimentari che hanno visto l'impossibilità di sopravvivere a questa situazione. Noi abbiamo presentato come associazione a livello nazionale una proposta di legge proprio per cercare di aiutare al massimo questi settori che ha visto una presenza veramente ridotta. Basta guardare le nostre periferie o i paesi esterni, i paesi della città metropolitana per vedere come molte delle attività storiche stanno chiudendo. I problemi sono venuti molto forti, c'è un problema di ricollocamento ma c'è sostanzialmente un problema di ricarico che non permette alle attività di stare aperte. Quindi bisogna assolutamente, se si pensa che queste attività siano importanti per il nostro tessuto sociale, cercare di aiutarle il miglior modo possibile. Gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco hanno fermato la scorsa notte poco dopo le 24 un algerino di 32 anni che dopo aver danneggiato una finestra di un negozio in via Malcontenti nel centro di Bologna ha tentato di introdursi all'interno. Lo straniero è stato notato dai poliziotti che lo hanno immobilizzato e arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. Sempre ieri sera la polizia in un'operazione interforze con l'ausilio anche della polizia locale ha eseguito controlli nel centro cittadino. Il titolare di un locale è stato sanzionato per aver venduto alcolici a minori. Altri due esercenti sono stati multati per inosservanza dei regolamenti comunali. Uno perché era rimasto aperto oltre l'orario di chiusura, l'altro per aver venduto bevande in bottiglie di vetro. Infine tre giovani sono stati sorpresi a urinare per le strade del centro cittadino e sono stati sanzionati. Ultima pagina, qual è il ruolo del terzo settore? Qual è il significato che riveste oggi nella democrazia? Se ne è parlato in un incontro che si è svolto al Campus Bononia promosso da Bologna Bene Comune dalla Fondazione per la Sussidiarietà a cui hanno partecipato tra gli altri il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, l'ex Ministro Tiziano Treu e il Presidente di Conf Cooperative Daniele Ravaglia. In Emilia Romagna sono oltre 24 mila le associazioni non profit con oltre 500 mila volontari. Per il Presidente della Regione Bonaccini il terzo settore rappresenta il cuore dell'Emilia Romagna. Sentiamolo allora. Presidente, qual è il valore del terzo settore in Emilia Romagna? Se guardate i numeri della ricerca, qui sono numeri sempre sopra la media nazionale per numero di associazioni, per numero di filiere, per numero di volontari. È un bene inestimabile in una terra come questa perché la propensione a dare parte del proprio tempo rubandolo agli affetti, al lavoro, agli hobby per dedicarlo agli altri, io credo sia un valore straordinario. Guardate cosa sta accadendo sull'accoglienza delle donne e dei bambini ucraini che fuggono. Qui ce n'è più di un quarto dell'intero accoglienza del Paese. Oltre il 90% è presso famiglie. Il forno del terzo settore è attivo nel coordinamento dell'emergenza. Insomma, è un volano formidabile. D'altra parte, una parte importante di servizi anche che vengono offerti ogni giorno alle famiglie, ai cittadini, dai bambini, passando per gli anziani o per chi ha disabilità o deve formarsi, passano anche da tanta parte di privato sociale, privato no profit, cooperazione sociale. Noi dobbiamo, secondo me, rafforzare questo valore nel patto per il lavoro e per il clima. Come sapete, il forno del terzo settore, nella sua interezza, fa parte del confronto con le parti sociali. L'Ausl di Bologna e l'associazione culturale Dry Art, insieme per la rassegna Io conto il valore alle donne, scusate, un inciclo di incontri promossi per ostacolare ogni forma di violenza sulle donne, compresa quella economica, anche a causa della pandemia. Incontri che si terranno fino alla fine dell'anno. Sentiamo Alessia Salvatori. L'Ausl di Bologna, in collaborazione con l'associazione culturale Dry Art e con il finanziamento della regione, ha presentato un ciclo di eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle politiche di genere, che vanno dalla promozione dell'alfabetizzazione finanziaria all'accesso al lavoro, al fine di ostacolare ogni forma di violenza sulle donne, compresa quella economica. È un progetto che si svolgerà da qui a dicembre, in due tranche. La prima prevede un corso di formazione per le dipendenti dell'Ausl sul tema anche della pianificazione della carriera, del sostegno a sconfiggere il soffitto di cristallo. La seconda parte dell'anno invece sarà dedicata più ai territori, ai distretti sanitari e prevede di agganciare le donne in condizioni di fragilità sociale e quindi in questo caso anche caregiver, assistenti familiari, donne anziane, net, ma in questo caso anche le profughe per esempio, per capire come fare educazione finanziaria, aprire un conto corrente, chiedere un microcredito, come insomma gestire al meglio l'economia familiare, perché spesso abbiamo visto che le donne lavorano, ma purtroppo consegnano magari i soldi al compagno o al marito e non hanno accesso al credito. Quindi l'alfabetizzazione finanziaria è anche uno strumento per prevenire la violenza economica. Allora, noi sappiamo che abbiamo molte famiglie che non riescono a pagare una badante e al contempo delle badanti che accettano dei lavori in nero perché hanno bisogno di un posto anche dove stare, un domicilio. Quindi l'idea è quella di strutturare delle politiche pubbliche che passino da un lato dalla formazione e dall'altro da un sistema incentivante per incontrare la domanda e l'offerta e anche strutturare un sistema di diritti per queste donne. Uova di Pasqua rigorosamente vegane e non solo di cioccolato fondente per sostenere le campagne ambientaliste della LAV. La Lega Antivivisezione quest'anno raccoglie fondi anche per aiutare il recupero degli animali vittime dell'emergenza legata alla guerra in Ucraina. A Bologna il banchetto per acquistare le uova della LAV è allestito in via indipendenza questo weekend e anche il prossimo. Sentiamo Federico Balletti. Un banchetto della LAV, la Lega Antivivisezione in via indipendenza, si vendono uova di Pasqua, ovviamente vegane, con una doppia campagna. Abbiamo una campagna che sostiene praticamente il divieto che dovrebbe entrare in vigore a breve di commercializzare e allevare animali selvatici anche ovviamente sul territorio e quest'anno in più le ovette della LAV andranno anche a sostenere con una parte del ricavato gli animali che sono rimasti vittime della guerra in Ucraina, quindi gli animali abbandonati nei canili e comunque la situazione che c'è purtroppo relativa a questo conflitto. La LAV ha fatto di recente anche proprio un'unità di emergenza dove appunto si è premurata di trovare, di raccogliere aiuti sotto forma di alimenti e tutto da inviare proprio direttamente in Ucraina e l'aspetto dell'accoglienza supportando le persone che si sono portate dietro ovviamente i loro pet dall'Ucraina e la LAV si occupa anche appunto di agevolare, di aiutare le persone che incontrano ulteriori difficoltà proprio perché hanno gli animali a carico. Attualmente abbiamo anche quest'anno una nuova novità, abbiamo introdotto l'ovetto vegano al latte di riso che molti bambini ce lo chiedevano. Nuova, diciamo, vegane, sia fondenti che al latte, quanto costano? Sì, allora quello fondente viene dai 14 euro, quello al latte 16. E naturalmente poi ricordiamo che chiunque volesse poi avere informazioni sulla nostra associazione, sulla nostra attività, ci può trovare su Facebook, sul web, al sito www.lab.it per chi non ci conoscesse e volesse approfondire anche le nostre iniziative. E Fondazione Ant si prepara ancora una volta a celebrare le festività pasquali nel segno della solidarietà per i malati di tumore e in più offre il suo aiuto anche in qualche modo nel sostegno sanitario ai profughi ucraini. Sentiamo. Fino a metà aprile i volontari Ant tornano nelle piazze di tante parti d'Italia con uova di cioccolato al latte o fondenti, tradizionali colombe e altri dolci per sostenere il lavoro delle tante equip di medici, infermieri e psicologi che ogni giorno portano assistenza, cura e supporto a 3.000 persone malate di tumore in 11 regioni d'Italia. I regali di Pasqua Ant saranno disponibili nelle postazioni di piazza e nei charity point Ant, le informazioni sul sito www.ant.it ma potranno essere ordinate anche online sul nuovo sito nella sezione Regali Solidali compresa la consegna a domicilio, anche quella dei propri cari. Sarà un'occasione per stare insieme, anche se lontani, e celebrare le feste nel segno della solidarietà. Torna anche l'iniziativa dell'uovo sospeso, mutuata dalla tradizione partenopea del caffè sospeso. Approfittando delle festività pasquali, Fondazione Ant offre l'opportunità di moltiplicare la solidarietà con un unico gesto, utile sotto molti punti di vista. Con un'offerta minima di 15 euro sarà infatti possibile donare un uovo di cioccolato da mezzo chilo al lato fondente a realtà solidali del territorio, a scelta del donatore o suggerite dalla Fondazione e contemporaneamente contribuire a sostenere l'assistenza medico-specialistica Ant ai malati di tumore. Sul sito, alla pagina uovo sospeso, è possibile trovare l'elenco dei beneficiari per ogni zona e le modalità per donare. Fondazione Ant vuole anche mettersi al servizio delle istituzioni per far avere cure e assistenza ai profughi ucraini. Ci siamo con l'assistenza, stiamo approntando, speriamo di farlo a breve, tre appartamenti per ospitare famiglie che abbiano bisogno di cure. Quindi Fondazione Ant, anche per questa Pasqua, vuole raccogliere fondi. È un momento delicatissimo della nostra storia, è un momento di spartiacque. Ci sarà moltissima povertà, molta gente si troverà in grandissime difficoltà visto che mancheranno le materie prime, visto che aumenteranno i prezzi e certamente le cure sanitarie saranno ancora una volta messe in secondo piano. E allora la solidarietà di tutti attraverso questa campagna di Pasqua, attraverso un uovo, una colomba, l'uovo solidare, diventano fondamentali per riuscire a garantire questi servizi di welfare che vogliamo dare alle popolazioni e soprattutto alle persone fragili. Emilio De Leo, siamo allo sport. In assenza dell'allenatore rosso-blu Sinisa Mihailovic, ha presentato la gara contro il Milan di domani sera alle 20.45. Soriano, in dubbio tra i titolari, fuori De Silvestri, infortunato, con Aki favorito sulla fascia. Dovremmo giocare a viso aperto anche per dare un sorriso al nostro allenatore, ha detto De Leo oggi in conferenza stampa. Sentiamo. Ma sicuramente non è stata facile perché in qualche modo è stato, come potete immaginare, un fulmine a ciel sereno la notizia del nostro allenatore. Però dall'altra parte io credo che ci siamo subito ricompattati, ci siamo subito responsabilizzati, come d'altronde era successo già qualche stagione fa. Quindi da subito ci siamo concentrati su quelli che erano poi i compiti al fine di esprimere una prestazione importante. Sappiamo sicuramente che ci aspetta una gara difficilissima contro probabilmente la migliore o comunque una delle migliori squadre del campionato. Però, come ha detto anche il nostro allenatore, cercheremo di giocarcela con tanto coraggio, sapendo che può essere un'occasione per tutti quanti noi, anche per i ragazzi, voglio dire, più giovani, di mettersi al cospetto di calciatori tanto forti, in un clima magari anche tanto caldo. Secondo me sarà un bel test che però affronteremo, secondo me, con molta determinazione. Vogliamo giocarcela, vogliamo provarci fino in fondo, vogliamo farlo a viso aperto e naturalmente vogliamo provare a dare una piccola soddisfazione al nostro mister. Vogliamo ritrovare da un lato, io dicevo sempre, una sfrenata leggerezza, nel senso che sfrenata nella consapevolezza di dover essere umili, di sapere che bisogna tenere botta, che bisogna lottare fino all'ultimo istante, indipendentemente dalla classifica. Io credo che, chiaramente, nel primo anno eravamo, secondo me, riusciti a farlo con una certa necessità, tra virgolette. Poi dopo, probabilmente, anche con degli alti e bassi. Da quel punto di vista, la determinazione, la tenacia la dobbiamo ritrovare. Leggerezza, però, io penso sia fondamentale, perché siamo una squadra che si esprime meglio, sicuramente quando è un po' più, diciamo, libera di tessa, quando crede in se stessa, quando il gruppo ha fiducia nel proprio compagno. Quindi, secondo me, questi due elementi sono fondamentali. Mi dicono dalla regia che la pronuncia esatta è I-chi, non A-chi, mi scuserete, mi scuserà l'interessato, un po' come la gag tra Igor e Aigor. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica e buon proseguimento di giornata. Da oggi l'informazione di ETV Rete7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.